Al parco di distribuzione Teca Greenfuel alla Mesa Terme si è svolto il campionato agonistico Hi-Fi Car con esposizione Tuning Car. Per l'occasione abbiamo intervistato l'organizzatore Antonio Villella e dei giovani appassionati il Bunker Sound Club che ha anche vinto il premio come il club più numeroso del raduno in questione. Buonasera sono Antonio Villella del club delle auto Hi-Fi Car e abbiamo organizzato questo raduno qui alla Mesa Terme presso il Greenfuel Teca Gas. Ringrazio tutti gli appassionati che sono venuti dalle varie zone Cosenza, Falerna, Reggio Calabria, Vibbo, Palmi, Gioia Tauro e tante altre parti. Bella manifestazione oggi qui abbiamo fatto, ci stiamo accingendo a fare la premiazione delle varie categorie audio, alcuni già sono stati premiati e abbiamo dato i trofei, le coppie che si sono portate a casa. E niente, ringrazio veramente questa bellissima giornata e tutti gli appassionati che hanno partecipato qua insieme a noi. Allora noi mettiamo, quando ci sono gli eventi, mettiamo le varie locandine, le pubblichiamo su Facebook e tante altre cose, Instagram e niente, quindi naturalmente seguiranno la locandina e poi ci riuniamo attualmente per il fatto Covid in aree private che ci danno e quindi possiamo gestire la manifestazione nel meglio possibile. Allora la passione per le macchine, in primis la passione delle macchine, poi gli impianti stereo, chi è appassionato di musica, la musica ce l'ha proprio dentro, nelle aree, quindi per questo si va avanti, ora sono da anni, io già lo faccio a una ventina d'anni questa passione tuning e car audio. Allora diciamo che Bunker Sound nasce principalmente da un gruppo di amici legati tutti quanti dalla stessa passione diciamo e ci siamo basati su altri gruppi quindi diciamo siccome eravamo legati dalla stessa passione abbiamo pensato di realizzare un qualcosa di nostro ecco. Diciamo che ognuno ha la sua visione di come vuole vedere il suo mezzo ecco, non c'è uno standard, a me piace la macchina fatta in un determinato modo ma la faccio in quel modo ecco. Allora come ogni club anche noi abbiamo un profilo Instagram o comunque una pagina dove qualcuno ci può seguire, su Instagram potete trovarci scrivendo Bunker Sound dove pubblichiamo tutti i lavori che abbiamo fatto sulle nostre autovetture, storie o semplicemente se magari organizziamo un qualcosa, un ritrovo magari non un vero raduno visto che ancora è un gruppo che è in crescita. nulla, alla fine Bunker Sound è semplicemente un gruppo di amici legato alla stessa passione, mondo tuning da quanto va per l'impiantistica anche a livello dell'estetica, è una passione che ci lega tutti quanti, fin da bambini perché da quando abbiamo iniziato con i primi mezzi è una cosa che si fa graduale fino a poi a raggiungere un obiettivo che comunque abbiamo prefissato.